in australia in canada dove sta riscuotendo un grande successo lei ha fatto anche la traduzione inglese ma è vero che quella traduzione in un certo senso è responsabile della sua malattia responsabile no non esageriamo non è che mi è venuto il cancro perché ho tradotto il libro in inglese complice sì lo ammetto perché quando la primavera scorsa mi resi conto che il motivo per cui mi sentivo tanto male e soffrivo di dolori spesso insopportabili si tratta ad un cancro compresi si tratta ad un cancro io stavo traducendo anzi ritraducendo inshallah in inglese lo avevo già ritradotto in francese perché la traduzione francese era pessima lo stato ritraducendo in inglese perché quella inglese era peggiore di quella francese e mi trovai dinanzi a un dilemma angoscioso abbandonare il lavoro correre subito dal medico che sicurissimamente mi avrebbe detto signora si opera domani mattina oppure e quindi lasciare che l'editore impaziente pubblicasse la cattiva traduzione del traduttore incapace oppure finire il lavoro e poi fare l'operazione ci pensai una lunga tormentosa notte e poi scelsi la seconda soluzione so che soprattutto in italia sono stata molto criticata per questo per esempio dalla susan sontag la scrittrice americana che ha avuto un cancro sul cancro scritto un libro so che nel corso di una conferenza stampa a torino qualcuno le ha chiesto che cosa pensa della fallaci che essendosi accorta avere un cancro ha perso tempo prezioso e ha continuato a lavorare e so che la susan sontag ha risposto penso che la fallaci sia stata molto stupida che abbia fatto una cosa molto stupida forse nel senso che il tempo prezioso l'ho perso sicuramente però se tornassi indietro farei esattamente la stessa cosa perché vede io non scherzo non faccio della poesia quando dico che tra me i miei libri c'è un rapporto materno che i miei libri sono i miei figli come figli concepisco li partorisco li amo li difendo e tra la propria salute e quella di suo figlio tra la propria vita e quella di suo figlio quale madre non sceglie la salute di suo figlio e la vita di suo figlio io penso così senta io non parlerei della sua malattia se non avessero già tanto parlato i giornali ma dall'italia anzi dall'europa all'america alla cina quella malattia è diventato una notizia da prima pagina a pechino poi il quotidiano del popolo l'addirittura data per moribonda e del resto momento perché ho qualcosa da dire sull'uso che lei fa della parola malattia è la seconda volta che anziché la parola cancro le dice la parola malattia devo dire una cosa che a me sembra importante perlomeno per le persone che sono malate di cancro io appartengo a una generazione o meglio sono figlia di una società che ha sempre avuto paura di pronunciare la parola cancro o ha sempre evitato di pronunciarla come se fosse una parolaccia o una colpa non so per esempio quando uno muore di cancro sui giornali si legge nei necrologi è morto e morta di una malattia inquaribile anche quando morì willy brandt l'autunno scorso scrissero che era morto di una malattia inguaribile così quando è morta audrey heppurna soltanto nel caso di papa voetila hanno detto pane al pane e vino al vino il papa ha un cancro punto e questo a me sembra profondamente ingiusto profondamente sbagliato è sbagliato perché non è una non è vero che ha una malattia inguaribile voglio dire a volte si guarisce insomma si sopravvive alcuni anni a volte anche parecchi anni ed è ingiusto perché ci toglie speranza non capisco questo pudore non capisco questa avversione per la parola cancro non è neanche una malattia infettiva non è neanche una malattia contagiosa guardi bisogna fare come si fa qui in america bisogna dirla questa parola serenamente apertamente disinvoltamente io ho il cancro dirlo come si dice o si direbbe o la polmonite o l'epatite a una gamba rotta io faccio così e a fare così mi sembra di esorcizzarlo va bene d'accordo esorcizziamolo e chiamiamolo con il suo nome qual è il suo rapporto con la malattia cancro come l'affronta in quale maniera l'ha cambiata guardi il rapporto è un rapporto di guerra è il rapporto tra due nemici che mirano a distruggersi come alla guerra lui vuole ammazzare me e io voglio ammazzare lui dico lui perché io sono incapace di parlarne come di una cosa o come di un'entità astratta per me lui è una una creatura viva un animale di un altro pianeta un alieno che ha invaso il mio corpo per distruggerlo pensai così anche quando lo vedi subito dopo l'operazione perché subito dopo l'operazione chiesi ai medici di vederlo dissi portatemelo qui quello voglio guardare in faccia quel figlio di cane è un po sorpresi loro me lo portarono e a colpo d'occhio sembrava una pallina di marmo innocua quasi graziosa ma io non lo vedi come una pallina di marmo io lo vedi appunto come una creatura viva come un alieno che era entrato dentro di me per distruggermi e quando alcuni giorni dopo lo riguardai al microscopio e vidi di che cosa è capace quello che combina quando si riproduce ma del corpo capì veramente che avevo un nemico da combattere lui voleva distruggere meglio dove distruggere lui come lo combatto come lo combattano tutti combattuto con la chirurgia e poi con i medicinali con la radioterapia ma io soprattutto lo combatto col cervello c'è una scuola che in america la quale sostiene che bisogna combatterlo col cervello rifiutarlo col cervello che più che rapporto di guerra forse dove parlare un rapporto di sfida di sfida mentale perché c'è un dialogo muto tra me e lui anche quando accendo la sigaretta perché meno di prima ma continuo a fumare non le dico in questo paese dove la sigaretta è peccato mortale che che scandalo provoco a fumare anche quando accendo una sigaretta mi sembra di sfidarlo te è un brutto stronzo che ti fumo in faccia non è certamente un rapporto di paura e questo lo dico con sorpresa perché avere paura è assolutamente legittimo è più che lecito e anche salutare ma anche quando mi sono accorta ad averlo non ho provato paura ebbi paura soltanto prima dell'operazione quando temevo che mi mutilassero con l'operazione e fu il medesimo tipo di paura che aveva alla guerra quando temevo a seguire un combattimento di perdere un braccio di perdere una gamba di restare cieca più che di morire avevo paura di restare mutilata ma poi questa mutilazione non è avvenuta il che mi ha aiutato molto psicologicamente al posto della paura c'è a momenti una profonda tristezza voglio dire ci sono momenti di grande combattività e momenti di grande tristezza quasi di rassegnazione uno di questi è avvenuto quando è morta Audrey Hepburn forse perché la conoscevo forse perché aveva la mia età forse perché l'avevano operata o rioperata più o meno nel periodo in cui avevano operato me l'ho presa male e questa tristezza è durata parecchi giorni ma poi l'ho superata è tornata la combattività e in un modo molto sano le dico quale ho cominciato a pensare al mio prossimo libro a quello che ancora non ho incominciato perché ancora mi sento troppo male per incominciarlo ma lo incomincerò e lo scriverò e lo finirò e lo pubblicherò e barba l'alieno. Vedo che non è cambiata e alla fallaci di sempre rivolgo quest'ultima domanda che cosa ha da dire alle donne e agli uomini che hanno il cancro ma io sono cambiata e come se sono cambiata perché sono cambiate troppe cose intorno a me dentro di me è cambiato ad esempio la quantità di energia che è estremamente diminuita perlomeno fino a questo momento è cambiata la mia sopportazione al male fisico che almeno fino a questo momento al contrario è raddoppiata sopporto il dolore fisico perché c'è ancora o ancora forti dolori molto bene a sé meglio di prima e soprattutto è cambiato il rapporto col tempo perché vede bando all'illusione malattia inguaribile o non inguaribile mortale o non mortale quando si al cancro o lo si è avuto e si aspetta che ritorni perché il figlio di cane torna sempre prima o poi torna si convive con l'idea della morte ci si sente dei condannati a morte e quando ci si sente dei condannati a morte cambia il rapporto del tempo cambia col tempo e cambia la lunghezza del tempo voglio dire il futuro è più breve il domani è più corto cambiano anche molte altre cose per esempio la preoccupazione di usare bene il tempo che ci rimane che sia molto che sia poco il timore di sprecarlo questo tempo io non so se ricorda una splendida pagina nel romanzo l'idiotto di Dostoievski quella dove Dostoievski racconta in terza persona del giorno in cui fu per essere fucilata a Pietroburgo insieme a un gruppo di riboltosi e quella in cui dice se sopravvivo se sopravviverò non sprecherò più un attimo della mia vita un minuto della mia vita e l'interlocutore chiede e sopravvisse e lui risponde oh sì sopravvisse ma spreca molti minuti della sua vita e molte ore molti giorni molti mesi molti anni quindi sprecare si spreca lo stesso però vede la cosa più importante da dire lei mi chiede di dare consigli a chi ha il cancro io non ho consigli da dare a nessuno anche perché ogni cancro è diverso e ogni persona che ce l'ha è diverso e ciascuno reagisce in modo diverso io posso soltanto dire a queste persone quello che provo sperando che gli serva ancor più del rapporto col tempo è cambiato il mio rapporto con la vita voglio dire questo io guardi ho sempre amato disperatamente la vita anche nei momenti più neri di disperazione più nera di dolore più cupo io sono sempre stata contenta di essere nata ho sempre pensato che la vita è bella anche se è brutta e Dio sa se può essere brutta brutta e cattiva perché gli esseri umani sono così cattivi ma ora sono ancora più contenta di essere nata sono ancora più convinta che la vita sia bella anche quanto è brutta e quando mi succede qualcosa di buono e mi prende una specie di gratitudine pazza beh se mi succede qualcosa di cattivo soffro molto di più di quanto se mi viene fatta un'ingiustizia soffro assai di più di quanto soffrissi prima ma se mi capita qualcosa di buono qualcosa di bello il bello è molto più bello il buono è molto più buono guarda inshallah non è un libro allegro come può essere un romanzo di guerra è sostanzialmente un libro tragico e anche un libro divertente pieno di ironia di humor ma è un libro tragico che finisce come deve finire so è male il mio amore per la vita è talmente raddoppiato moltiplicato che io voglio che il mio prossimo libro finisca bene che abbia un finale ottimista che esprima il trionfo della vita il trionfo della vita